Lavori sulle colline di Pietrasanta con interventi sulle fognature, un confronto tecnico per risolvere l'annoso problema delle fogne a monte, stoppa, sversamenti e cattivi odori con cui gli abitanti di Capezzano, Monte e Capriglia sono costretti a convivere. E' questo l'esito del sopralluogo, vedete, del vice sindaco di Pietrasanta Daniele Mazzoni che si è recato sulle frazioni collinari con l'obiettivo di fare il punto sugli interventi necessari per separare la fognatura nera dalla fognatura bianca per evitare lo sverso di acque scure nei terreni e migliorare la qualità della vita dei residenti. Incontro che è nato dopo le segnalazioni da parte dei cittadini stessi in un incontro che la Giunta aveva organizzato in paese. Ho lasciato che a dare indicazioni ai tecnici fossero gli stessi residenti, ha spiegato il vice sindaco, infatti sul posto anche i tecnici comunali e di Gaia e ha spiegato Mazzoni, la questione va affrontata con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti senza scarica barile. Parliamo di sicurezza sulle strade.